Ciao Carmelo Manacorda Guarda questo video sulla tv anche noi Ciao Mario Vincenzo Sorce, Stefania Porta Purpette Io volevo sapere questo nome, Stefania Porta Purpette Significa Stefania Porta Purpette O è un super nome che mi è rimasta la curiosità Ciao Riccardo Pernetto da Scunzano, ciao a tutti voi Iniziamo come al solito con i saluti Oggi tante cose di cui parlare, alcune delle quali anche molto importanti Ciao il grande Maurizio Camilleri da Trapani Maria Pateri da Catania E ciao ad Alessandro Brunetti Che mi chiama Bomber Abbiamo giocato insieme in passato Un nomignolo che mi affibi senza conoscere il mio passato francistico Saluto Maria Fiorella Longo, saluto Asia Santoro Grazie, saluto Alessandro Armagnato, Mario Sciacca da Valverde A Maurizio Trapani che invece è un grande tenista Salvatore Fallica Salvatore Fallica si sente male A me quando mi dite si sente male io soffro sempre molto Anche perché qualcuno dice si sente male Si sente male ancora adesso? Ok? Vediamo, vediamo Allora provo a vedere se con il mio computer C'è un problema di audio o meno Saluto Sabina Mignogna Nel frattempo riproviamo Si sente male io adesso Oddio mi brucia un occhio, scusate Vediamo, vediamo che succede C'è il solito elicottero Anche con l'auricolare c'è l'elicottero Va bene, un attimo, un attimo Con l'auricolare Andiamo su un altro auricolare Che senza auricolare di solito si sente peggio Ciao a Salvo Stancanelli Vediamo che succede Temo che senza auricolare si è peggio Addirittura Alberto lo porto Come stai Alberto? Saluto Domenico Mimmo Turillo Saluto Francesco Rappa Simona Izzi Anche lei mi dice che si sente male Tutti mi dite che si sente male Vediamo com'è questo rumore No, no, così non va bene Non vedete E così passa Oh, è passato Adesso si sente bene Marco Quaranta, come stai? Caro Marco Oh, è passato Adesso si sente bene Saluto Marco Quaranta Saluto Lina Mannu Saluto tutti voi Ancora qualche minuto Prima di partire E parlare delle tante cose Di cui dobbiamo parlare Perché, come vi ho detto ieri Come vi ho detto scusate Prima Ci sono tante novità Purtroppo non tutte belle Per esempio Tanto per dirvene una Oggi due parlamentari del Movimento 5 Stelle Le hanno lasciato No, non mi dite come di nuovo male Ragazzi Ma che è? Ma cos'è? Eh, non va bene 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 Ma che succede Dio santo? Riproviamo È una diretta tormentata Ora di nuovo male Mi scrivono Gli amici Vediamo che succede di nuovo È una diretta tormentata No, ragazzi Io sento bene Non mi prendete in giro Non mi fate arrabbiare Eh? Se no voi sembro scemo io Allora Vi dicevo Che Due parlamentari Del Movimento 5 Stelle Oggi Saluto Antonio Aloi Saluto Fabio Saluto Asia Ma li ho già salutati Eccetera Eccetera Ci sono stati due parlamentari Del Movimento 5 Stelle Che hanno Lasciato il movimento La deputata Alessandra Ermellino E la senatrice Alessandra Riccardi Problema grosso Come al solito Addirittura la Riccardi Passa direttamente alla Lega Senza passare dal via E la Alessandra Ermellino Passa Al gruppo misto Il problema grosso Che mi fa tanto arrabbiare È che queste persone Fanno parte del movimento Sono state elette con i voti del movimento E noi abbiamo sempre detto Che se qualcuno Non sta più bene Di far politica Con La 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 parte Con la forza politica Che ti ha eletto Con il movimento Che ti ha eletto Tu devi andare a casetta La devi lasciare La poltrona Ti dimetti Da senatore O da deputato Da eurodeputato Da consigliere comunale Da consigliere regionale Eccetera E poi Torni a fare politica Con chi ti pare Quando ti pare E ti fai rieleggere Ma intanto Ma intanto Ti devi dimettere La cosa qual è Che queste persone Non lo fanno Bravo Angelo Bufardesci Io però Una cosa la voglio dire Al caro Angelo Bufardesci Caro Angelo Servirebbe Una modifica costituzionale Perché in Italia Non esiste Il vincolo Di mandato Per legge Quindi Se volessimo Passare a Una legge Che impedisce I cambi di casacca Servirebbe Una riforma Costituzionale Prima di partire Davvero Con le cose Di cui parleremo Oggi Fra le quali Questa Sentiamoci 5 30 secondi Un minuto Di una canzone Di Franco Battiato Della quale Forse qualcuno Ha bisogno Credo Che ci siano tanti Che hanno tanto bisogno Di questa canzone Oggi Perché mi pare Di capire Che c'è qualcuno Che ha le idee Molto poco chiare E allora Proviamo A chiarirgliele Insieme a Franco Una vecchia Bretone Con un cappello Un ombrello Di carta Di riso E canna Di bambù Capitani Coraggiosi Furbi Contra Bandieri De la nascendoni In a nascendoni Gesuiti Occhidei Vestiti Come dei bonzi Per entrare A corte Degli imperatori Della dinastia Dei miei Cerco Un centro Di gravità Permanente Che non mi faccia Mai cambiare Idea Sulle cose Sulla gente Avrei bisogno Di C'è qualcuno Che ha bisogno Di un centro Di gravità Permanente Così non cambia Idea Sulle cose Sulla gente E soprattutto Mi permetto Di dire Sfruttando un pezzettino Di canzone Del grandissimo Franco Battiato Mi permetto Di dire Che bisognerebbe Non prenderla In giro La gente Non solo Non cambiare Idea Sulle cose Sulla gente Ma non prendere In giro La gente Cioè i cittadini Cioè quelli Che ci hanno Votato Che hanno votato Movimento 5 stelle E incredibilmente Si ritrovano Una senatrice Un senatore Dei senatori Dei deputati Eletti Grazie al simbolo Del Movimento 5 stelle In un'elezione Che lo ricordo Quella Al Parlamento Nazionale Senza preferenze E questa gente Questi nostri elettori Questi cittadini Si ritrovano Senatori e deputati Che sono andati Dove? Nella Lega Nel gruppo misto Nel PD In altri Di Forza Italia In altri partiti Dico Non mi vergognate Io dico sempre A queste persone E lo dico con rispetto Perché la vergogna È un sentimento Che possono avere Solo le persone Che hanno una coscienza Per cui se gli dico Non mi vergognate È perché ancora Ho un rispetto umano Di loro Ma non ho nessun Rispetto politico In quanto Se voi Andate a chiedere Il voto Per il Movimento 5 stelle Neanche un voto Di preferenza Per voi Ma il voto Per il Movimento 5 stelle Grazie a quel voto Grazie a Beppe A Già Roberto A tutti noi Che abbiamo fatto La campagna elettorale Del 2018 Con la quale Siamo arrivati Al 33% Ve la ricordate Quella campagna elettorale C'ero io C'era Di Maio C'era la Paola Taverna C'era Beppe C'era Di Battista C'era Castaldo C'era Maglio Di Stefano C'era Vito Crimi C'era Roberta Lomar È stata una bella Campagna elettorale C'eravamo tutti Grazie a tutti Siamo arrivati Al 33% C'era Rocco Casalino Che la coordinava Qualcuno ne parla male Di Rocco Ma vi ricordo Che è stato L'arterice Di una campagna elettorale Che ci ha portato Al 33% Ora Quel 33% Non è stato dato Ai signori Paragone Giarrusso Ricciardi Riccardi Come si chiama Ermellino Cappellani E compagnia È stato dato Al Movimento 5 stelle E noi Avevamo sempre detto Se Non credete più Nella forza politica Che vi elegge in Parlamento Vi dimettete Dal ruolo E addirittura Abbiamo pure fatto firmare Una dichiarazione In cui nessuno Sarebbe passato Da altre forze Pena Se no avrebbe dovuto Pagare una penale Eccetera Questi stanno facendo Esattamente Tutto ciò Che abbiamo sempre Contestato agli altri Quindi forse Hanno bisogno Di un centro Di gravità permanente C'era Roberto Figo Grazie a Asia Santoro Mi ricorda Che ho dimenticato Fra i tanti bravi Ma guardate Che in quella campagna elettorale Più che pensare Che c'era Di Maio Figo Di Battista Giarrusso Taverna Castaldo Che abbiamo fatto Credo un buon lavoro Emilio Carelli Io ricordo Tante riunioni Tanti incontri Tante Tanta proprio Sangue gettato Sul territorio A parlare con la gente Tanti gazebo Tanti incontri televisivi Tanti incontri nelle piazze Tanti confronti Con altri candidati Con altre forze politiche C'eravamo noi Ma c'eravate soprattutto voi C'erano soprattutto gli attivisti La campagna elettorale Più bella E quella dove si coinvolgono Gli attivisti I cittadini E non solo i candidati Io ringrazio Tutti gli attivisti Che hanno fatto la campagna Nel 2018 Perché grazie a loro Che abbiamo preso il 33% Non tanto grazie a noi Noi abbiamo fatto il nostro Credo Alcuni anche molto bene Ma Senza attivisti Si va Poco lontano Soprattutto per una forza Come il movimento Che non ha i soldi Senza attivisti Non si va lontano Quella campagna elettorale Del 2018 Uno come Roberto Cosentino Che magari molti di voi Non sanno chi è Ma io lo so chi è E' un attivista Della provincia di Catania E beh Una parte del risultato Il merito è suo Capite? In quella campagna elettorale Uno come Tony Melli Una parte del risultato è suo Uno come Benedetto Bruno E ne potrei citare altri 100.000 Perché in tutta Italia Ci sono stati attivisti così Mi sono venuti i primi tre nomi Non si offenda nessun altro Campagna elettorale Per portare voti al movimento Poi arrivano questi E chi si fa Un partitino suo Chi si fa Scusate mi tolgo Il Mi tolgo il Eccolo qua E' obbligatorio tenerlo Quando si entra e si esce Io a volte lo dimentico Appeso al collo Il mio tesserino Da portavoce al Parlamento europeo Parlamentare europeo Allora Dobbiamo Arrabbiarci E Chiedere con forza Dappertutto Che chi Tradisce così Il mandato elettorale Il voto dei cittadini Abbia la Come dire La dignità Di dimettersi La Davvero la dignità minima Di dimettersi Io temo che non lo farà nessuno Tutti tengono Alla loro poltrona A partire da Dai più Amici del sistema Come Gianluigi Paragone Che del sistema faceva parte Ha fatto finta di uscire E del sistema invece ha continuato a far parte E continua a far parte Da bravo infiltrato all'interno del movimento E quelli che invece del sistema forse non facevano parte prima E forse vogliono far parte adesso Vedete Queste defezioni all'interno del movimento spiegano in maniera plastica Come sia falso che il movimento è diventato sistema Se il movimento fosse diventato sistema Questi signori Alla ricerca di visibilità Di poltrone Di soldi Di Come dire Di visibilità personale Di Utilità personale Resterebbero nel movimento Anzi Ci sarebbe tanta gente che vorrebbe entrare Nel movimento E invece non c'è C'è gente che esce Perché il movimento continua a essere una forza pulita Trasparente E non Come dire Non avvezza alle porcherie Che fanno altre forze politiche Qualcuno può dire Giarrusso Ma di chi parli? Di quali porcherie? Scusate un attimo Che sono un po' scomodo Mi metto in maniera un po' più comoda Qualcuno potrà dire Giarrusso Ma di quali porcherie stai parlando? Ve lo dico subito Di quali porcherie sto parlando Sto parlando ad esempio Dello schifo Che vediamo ancora oggi a Milano Introduciamo il primo argomento Forte insieme a quello dei Volta Gabbana Dei Cambia Casacca Ma che io detesto Ed è quello delle tangenti a Milano Allora Oggi ho letto un tweet di Gad Lerner Giornalista ex Repubblica Ora passato al Fatto Quotidiano Collabora con il Fatto Quotidiano Che scrive Oddio Trent'anni dopo non mi aspettavo di vedere Milano E' tornata indietro di trent'anni Parlando degli arresti Che ci sono stati a Milano Che arresti Cosa riguardano questi arresti? Forniture Nella Nell'ATM Cioè diciamo Mezzi pubblici di trasporto La metropolitana milanese I di autobus Quelle cose lì Forniture Il reparto L'impianto frenante Si sente un indagato che dice Mettili il cavo sbagliato Tanto se ne accorgono solo se c'è un incendio Dice una roba del genere Scusatemi se le parole non sono precisissime Ma il concetto è quello lì Ecco lo scandalo Per cui Gad Lerner si stupisce E dice Sembra di essere tornati indietro di trent'anni No Caro Gad Lerner Non è mai cambiato nulla A Milano e in Lombardia Da sempre governate Da forze vecchie Corrotte E squallide E attenzione I protagonisti Dei peggiori episodi di corruzione Delle peggiori stagioni di corruzione Di questo paese Molti dei quali Hanno gravitato attorno a Milano O sono stati parlamentari Sindaci Presidenti di regione Milanesi O in Lombardia Sono stati in qualche modo Beatificati Dalla peggiore stampa del mondo Pensiamo a Craxi Nel 92 viene fuori Segretario del Partito Socialista Il cui cognato è stato sindaco di Milano Pilli Teri Insomma Craxi Era un figlio di Milano Craxi Personaggio che più squallido Non si può Delinquente Delinquente matricolato Nel senso che Più tribunali italiani Lo hanno condannato Per alcuni reati Che ha commesso In particolare Per la corruzione E per il finanziamento Illecito Ai partiti A dieci anni Di carcere Questo criminale Anziché pagare Il suo La sanzione Che la giustizia Italiana Gli aveva combinato Sceglie Di darsi Alla latitanza Internazionale Quindi Craxi È un delinquente Ed è un latitante Internazionale È stato Il simbolo Di un sistema Legato alla corruzione Cioè cosa succedeva In quegli anni A Milano Diciamolo in maniera Semplice Per chi non lo sapesse Per chi è più giovane Io allora avevo 17 18 anni Adesso ce ne ho 45 Ma purtroppo le cose Non sono cambiate Succedeva che magari C'era un imprenditore bravo Che era Un imprenditore Nel settore degli appalti Delle forniture Delle mense Forniture sanitarie Oppure appunto Trasporti pubblici Eccetera Che voleva partecipare A una gara d'appalto E non poteva partecipare Oppure partecipava Ma non vinceva Perché alcuni imprenditori Disonesti Che avevano versato Determinate tangenti Dei soldi Per essere chiari Davano soldi I imprenditori disonesti Davano soldi Ad alcuni politici Ad alcuni partiti Ad alcuni rappresentanti Dei partiti E vincevano le gare d'appalto Anche quando non lo meritavano C'era un giro di ruberie Vorticoso Si parla di miliardi e miliardi di lire Come dire Centinaia Svariate centinaia di milioni Di euro di adesso Forse addirittura Qualche miliardo di euro Di adesso Solo su milano Parlo solo di milano Ebbene a distanza di anni Craxi Nonostante fosse il protagonista Di quella stagione Il più importante protagonista Di quella stagione Sapevano tutti Che il partito socialista Fosse così E c'era un signore Che si chiamava Beppe Grillo Che andò in Rai Allora la Rai Era molto infiltrata Di personaggi Legati al partito socialista Direttore di rete Direttore di telegiornale Il partito socialista Era il classico partito Prendi tutto Il classico partito Che voleva mangiare Non che voleva Lavorare per i cittadini Ma che voleva mangiare Affinché i propri Esponenti Fossero sempre più ricchi Avessero sempre di più Venissero confermati Nei ruoli di potere Ma non badava minimamente A quello che accadesse Ai cittadini In quel periodo storico E aveva colonizzato la Rai Con un sacco di personaggi Ebbene in Rai Un signore Un comico Allora di nome Beppe Grillo Fece una battuta geniale Dice Ci sono stati Craxi e Martelli Che sono andati in Cina E sono arrivati E gli hanno detto Che lì sono tutti socialisti E allora Martelli Ha detto a Craxi Ma se sono tutti socialisti A chi rubano Questa battuta Simpatica Geniale Perché lo dicevamo tutti Si sapevano E non è che lo dicevamo C'erano Ci sono stati poi Come dire Delle conferme processuali Rispetto al fatto Che il partito socialista Era un partito Purtroppo infestato Da ladri Da ladri matricolati Da criminali Di ogni genere E Questa battuta È costata A Beppe Grillo Per tanti anni Lo stracismo Della Rai Venne cacciato Dalla Rai Eccetera Ma non vogliamo Ricordare soltanto Grillo Vogliamo ricordare Il film Il portaborse Di Daniele Lucchetti Con protagonista Nanni Moretti Perché in quel film Si spiega molto bene Come funzionava Il sistema proprio Del partito socialista E la cosa incredibile Che quelli che allora Molti di quelli che allora Esaltarono il film Il portaborse E parlavano male Di Craxi Oggi In qualche modo Rivalutano Craxi Perché io ce l'ho con Craxi Qualcuno potrà dire Già Russo Ma che cazzo ci frega A noi di Craxi Se noi abbiamo problemi Arrivare a fine mese E ci arrivo subito Perché purtroppo Le due cose sono più legate Di quello che si possa immaginare Io ho la fissa di Craxi Perché il fatto che Craxi Sia stato rivalutato Nonostante sia un criminale Delinquente E latitante internazionale Con sentenze definitive Passate in giudicata E una latitanza internazionale Durata anni In uno stato dove lui Aveva delle amicizie Che quindi non ha mai concesso L'estradizione all'Italia La Tunisia Di un dittatore Ebbene Nonostante tutto ciò Nonostante tutto ciò Craxi È stato beatificato La cosa grave qual è? Che l'esempio cattivo Del parlare bene di un ladro Spinge altri politici A rubare Lo capite questo o no? Uno stato che non sa Riconoscere I propri figli onesti Per bene I lavoratori Gli operai I dirigenti per bene I politici per bene I grandi professionisti per bene I grandi docenti universitari Per bene Non li sa distinguere Da quelli per male Dai ladri Dai latitanti Dai delinquenti Dai condannati Da quelli che avevano rapporti Con la mafia Bene Uno stato che non sa Neanche a distanza di qualche anno Avere memoria storica Di chi sono i ladri E chi sono gli onesti Non li sa distinguere Volutamente un sistema politico Mediatico E imprenditoriale Volutamente mischia le carte Parla di stagione Di ripresa Di cazzate del genere Quando parla di quegli anni lì Uno stato che si comporta così Che non ha Gli anticorpi Per sanzionare Nemmeno ex post Non dico ex ante Ma ex post Un corrotto E un criminale del genere È uno stato che poi Vede altri ladri Quindi ho detto a Gad Lerner Guarda che non è che Siamo tornati indietro di 30 anni Non è mai cambiato nulla Da 30 anni In Lombardia In altre zone sì A Roma sì Perché è arrivata Virginia Raggi Ma in Lombardia no In Lombardia C'è stato Craxi C'è stato Formigoni Condannato in forma definitiva C'è stato Meammaroni Anche lui con delle condanne C'è stato Non so se sono in forma definitiva Se c'è ancora qualche grado di giudizio Ma Maroni È stato condannato Sempre per favoritismi Per roba del genere Ci sono stati diversi assessori Regionali Comunali Che sono stati arrestati Alcuni condannati In forma definitiva Altri beccati Diciamo così Con le mani nella marmellata Naturalmente non c'era solo Craxi Il suo cognato Pillitteri Venne arrestato e condannato Il suo vice Martelli Condannato in forma definitiva Tognoli Altro personaggio del Partito Socialista Ci sono stati tanti Alcuni sfiorati Dalle inchieste Altri colpiti Altri condannati In forma definitiva Ebbene A distanza di 30 anni Si è continuato così Il sindaco Sala È stato condannato Al momento Anche se a poco Per aver retrodatato Un documento Quando c'è stata Expo Sono tornati personaggi Come primo greganti Cioè collettori Di tangenti E oggi c'è l'ennesimo arresto Ma ci sono stati scandali In Trenord Ci sono stati scandali Nella Sanità Lombarda Il San Raffaele Maugeri Le cliniche Maugeri Formigoni E oggi L'impianto frenante Pensate quanto è importante Per la sicurezza Dei cittadini Lombardi E non solo Di tutti quelli Che vanno in Lombardia Quindi tutti i cittadini italiani E del mondo Potenzialmente Visto che sono Lughi bellissimi Da visitare In Lombardia O c'è chi ci va per lavoro La nostra sicurezza È messa a repentaglio Da qualcuno Che al telefono dice Vabbè metti un cavo sbagliato Tanto male che vado Se se ne accorgono Solo se c'è un incendio Ora Dico A questo siamo A distanza di 30 anni Non è cambiato nulla Una delle ragioni È che non si è mai Avuto il coraggio Di dire Craxi è un ladro È un condannato È un criminale È un latitante internazionale E deve essere Deve essere ricordato Come tale Non come uomo di Stato Un uomo di Stato È Giuseppe Conte Un uomo di Stato È stato Sandro Pertini Pensate il partito socialista Che è passato da un eroe Della seconda guerra mondiale Della resistenza Come Sandro Pertini Una persona per bene Che poi è diventato Presidente della Repubblica A un criminaletto Come Craxi A un delinquente A un latitante internazionale Come Craxi Pensate Pensate alla differenza Eppure si è parlato In termini molto buoni Come dire positivi Di un personaggio Come Craxi Di cui si parla molto più Che di un personaggio Che veramente allora Aveva unito l'Italia Come il presidente Sandro Pertini Allora Perché vi parlo di questo Ragazzi Perché se noi Non colleghiamo i puntini Noi non capiremo mai La realtà La realtà è che in Italia Ancora oggi C'è una lotta Fra due modi Di intendere Lo spirito Di servizio L'impegno politico Il ruolo istituzionale Uno è quello Di fare il bene Dei cittadini L'altro è quello Di farsi i cazzi propri Arricchirsi Dare soldi Magari ad amici Parenti Eccetera 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 E rubare In poche parole Il problema È che anche quando Il politico Non è il ladro In prima persona Ma favorisce Un imprenditore Disonesto Perché è suo amico E magari gli porta Semplicemente i voti Manco soldi Gli porta i voti Per essere rieletto Quel politico È colpevole È responsabile Non è colpevole Nel senso di un reato Ma è responsabile Dell'aver promosso Una impresa Disonesta Che ruba i soldi Dei cittadini È chiaro E lo ha fatto magari In cambio di un aiuto Alle campagne elettorali O di soldi O di promesse O dell'assunzione Di qualche parente In quell'azienda Questo è il cancro Uno dei cancri Dell'Italia E allora giustamente Qualcuno di voi Dice E invece guardate Come è stato bravo Toninelli E l'hanno tolto È vero È vera questa cosa Non è una battuta Non è una cazzata Da social Danilo Toninelli È uno di quelli Incorruttibili Lo capite perché Sta sulle palle Ve lo ricordate Che quando Danilo Toninelli Era ministro Gli facevano le vignettine Contro Lo prendevano per il culo Quei due genioni Di come si chiama Quei due comici Zerbini Non mi ricordo mai i nomi Quelli lì che fanno L'imitazione dello zerbino Quei due che fanno L'imitazione dello zerbino E lavorano in Rai Che fanno proprio gli zerbini Sono talmente bravi Sono diventati a imitare Gli zerbini Da essere diventati zerbini Allora uno dei due in particolare Proprio zerbino Spesso infatti è sporco Perché sullo zerbino Si puliscono le scarpe Sporche Di cacca Di ferriccio Di cose schifose Quelli lì comici Finti comici Che non fanno ridere zerbini I zerbini Fanno l'imitazione Di Toninelli Prendono per il culo Toninelli Scrivono cose contro Toninelli Perché lo fanno? Perché Toninelli Rappresenta esattamente Il vero avversario Del sistema Altro che Paragone L'ex direttore della Padania Pagato con soldi pubblici Con soldi nostri Capite? Il vero avversario Di un sistema del genere È Danilo Toninelli Perché è incorruttibile Perché dice Adesso basta Ci sono io Non si ruba più E si fanno le cose per bene Prometto che il ponte di Genova Si farà bene In tempi veloci Con efficienza Lo fa E poi chi va a fare La sfilata Come si dice La passerella Sul ponte di Genova Ci va Salvini Vorrei sapere a che titolo È un senatore E allora perché non ci Perché non hanno invitato Tutti gli altri senatori Perché non hanno invitato Paola Taverna Che è una senatrice Perché? Come mai non hanno invitato Non lo so Patuonelli Come mai non hanno invitato Toninelli Come mai non hanno invitato me Sono un europarlamentare Perché hanno invitato Salvini Per fare quella passerella Squallida Nella quale è talmente ignorante Che dice I pannelli a metano Che è una cosa Non so se è imbarazzante O cosa I pannelli a metano Cioè Danilo Toninelli Ha impostato quel lavoro In maniera Integra Come dire Trasparente Efficiente Ed è stato sostituito Al ministero E questo è un problema Una cosa che a me dispiace molto Ma con grande spirito Di squadra Con grande spirito Di attaccamento Ai valori etici Del Movimento 5 Stelle Ha accettato Questo Non se ne è andato E si è tenuto la poltrona Di parlamentare E poi magari No? Per attaccare poi magari Il Movimento 5 Stelle Danilo ha accettato Il fatto di non essere Più un ministro Perché è una persona Per bene E fa politica Per aiutare tutti noi E questi sono i modelli Ai quali io Nel mio piccolo Con il mio modo Di fare politica Da un punto di vista Etico Però Mi ispiro a questi modelli Quelle persone Che stanno facendo politica Per il bene del paese E non pensano Ai cazzi loro Ai loro amici Ai loro Al loro culo Ai loro collaboratori Ai loro cavoletti Perché il problema È che se Anche nel Movimento 5 Stelle Si infiltrano personaggi Del genere Siamo in difficoltà Siamo nei guai E' chiaro Allora A me dà veramente fastidio Il fatto Che ci sia Ancora gente Che non sa Che votando Quei partiti A Milano Ci sarà ancora La ruberia E non soltanto a Milano Ci sarà in Sicilia Ci sarà in Campania Ci sarà dappertutto Attenzione Perché qualche giorno fa A Milano Era stata arrestata La sindaca Di Oddio Non è Cologno Monzese Di un importante paese Della provincia di Milano Scusate Ho un piccolo Momento Di vuoto E non ricordo Del PD In questo caso Del Partito Democratico Sempre per una storia Di tangenti Di favoritismi Di abusi Ma perché Come mai Si continua In quella città Ad amministrare In quella zona Così A proposito A proposito Di Virginia Raggi Quando la gente Ha accusato E attaccato Virginia Raggi Ancora oggi Molti dicono Oddio la Raggi La peggiore sindaca La Raggi è l'unica sindaca Che a Roma Ha interrotto Questa mangiatoia E per questo Viene attaccata Come Danilo Veniva preso in giro Veniva preso per scemo I giornali Ne parlavano Come se fosse un idiota E proprio perché Non è per niente Un idiota Ed è una persona onesta E per bene Magari Per carità Ha fatto delle gaffe Come tutti Ha sbagliato delle cose Non è che Nessuno è infallibile Ma il punto Che la stampa Di regime Se la prende Con uno come Toninelli Perché è uno davvero Trasparente Che ha fatto smettere Di rubare Persino Sulle costruzioni Sugli appalti pubblici Sulle infrastrutture Pensate Quanto sia stato difficile Infatti lo hanno tolto Appena c'è stato Il nuovo governo Qualcuno Si è messo Di traverso E questo è un problema Sul quale noi Dobbiamo riflettere Purtroppo Ho parlato di Milano E magari di Roma Ma non dimentico Mai Che a Catania C'è stata un'altra retata E ringrazio le forze dell'ordine E la magistratura Per il loro impegno In defesso Con 55 Mi sembra Appartenenti ai clan Cappello Santa Paola Finiti dentro Cioè ragazzi La mafia fa affari d'oro Non pensate che Siccome non se ne parla La mafia sia Come dire In calo In declino No 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 Purtroppo Continua a essere Molto presente In tutte le regioni italiane Ormai da tempo Pensate al processo Emilia Pensate a alcuni clan Soprattutto calabresi Che si sono infiltrati In Lombardia In Emilia Romagna In Piemonte Ma anche siciliani Anche i campani Anche in Germania Anche in altri stati europei Anche in Canada La mafia La mafia è una piovra Terribile E va combattuta Combattendo innanzitutto La corruzione E l'infiltrazione Della mafia Di personaggi Malavitosi A tutti i livelli Nel tessuto Imprenditoriale Politico Istituzionale E Come dire Della macchina Burocratica Statale Perché ci sono Funzionari Dello Stato Infedeli Che aiutano La mafia Come è noto E che magari Lavorano affinché A una discarica Venga data una proroga Che non merita A un appalto Finisca un'azienda Che non lo merita Il che Come dire Penalizza Gli imprenditori onesti Qualcuno dice In Italia Gli imprenditori stranieri Non vengono Perché i processi Durano troppo Quindi Accorciamo la prescrizione Cose proprio Che non hanno neanche Una logica No signori miei In Italia Molte imprese Non vengono Proprio perché Ci sono stati E ci sono ancora Dei politici Ladri Ladri Che fanno vincere Gli appalti Alle aziende amiche Pur non meritandolo Ci sono dei Mafiosi Che arrivano E minacciano Le aziende concorrenti E quindi Le aziende per bene Fanno più fatica A lavorare Siccome Non siamo stati Abbastanza cattivi Abbastanza duri Con i mafiosi E non abbiamo Una classe dirigente Trasparente Limpida Cristallina Che decide In base al merito Ma abbiamo avuto E purtroppo Lo dicono i fatti Di Milano Di oggi Abbiamo ancora Una classe dirigente Che in molti casi Purtroppo In troppi casi È corrotta E quindi Dà magari Un appalto A un'azienda Che non lo merita Ecco che tante aziende Straniere Non vengono a investire In Italia Per questo Lo sapete Che la metro di Milano È costata Adesso non ricordo Se il tripolo Il quadruplo Dell'equivalente A Parigi In Germania A Berlino In altre zone del mondo Lo sapete questo I costi sono gonfiati Lo sapete perché vogliono fare la TAV Per mangiare Perché il TAV Torino-Lione TAV Torino-Lione Non serve a niente È un'opera inutile È un'opera che non è giustificata È un investimento suicida Ma si vuole fare O perlomeno si vuole iniziare a fare Per rubare Per mangiarci dei soldi sopra Allora Ho detto prima Che cosa penso Perché stavo guardando Gli appunti che avevo preso Adesso poi risponderò A tutte le vostre domande Che vi chiedo come sempre Di fare alla fine Chiedo scusa A ragione A ragione Marco Lolli La Riccardi passa Leggo un messaggio Di Cettina e l'acqua La Riccardi passa direttamente La Lega È una traditrice Cos'altro poteva fare O scegliere Corrotti, traditori, colusi, mafiosi Lei così come tutti gli altri Che passano a Lega O Fardelli d'Italia Sono i migliori rappresentanti Io sono molto dispiaciuto Di questi passaggi Ma soprattutto perché Noi abbiamo combattuto Questo fenomeno E quindi questo vuol dire Che anche Alcuni di quelli Che sono stati eletti Con il Movimento 5 Stelle Si stanno rivelando indegni E questo Oltre a farci arrabbiare Deve farci riflettere Che magari al prossimo giro Dobbiamo avere La capacità Di eleggere persone Migliori Di quelle che sono state eletti Saluto il nostro portavoce Al Comune di Ragusa Al Consiglio Comunale Sergio Firincielli Saluto l'attivista Salvo Riolo Vedo che ci sono tante persone collegate Alcune delle quali sono davvero Dei grillini Doc E mi fa molto piacere Vederli e salutarli Dopo qualche tempo Allora È chiaro Che qualcuno Che va In altre forze politiche Avezze A determinati Comportamenti E la Lombardia È stato il regno Della Lega Magari Evidentemente Ha una statura etica Morale Adatta Alla Lega E non adatta Al Movimento 5 Stelle Naturalmente Questa cosa a me Adolora moltissimo Chiedo scusa C'ho davvero un prurito molto forte Nell'occhio Naturalmente questa cosa a me Adolora moltissimo Perché significa Che anche noi Abbiamo eletto personaggi Che si sono rivelati Moralmente Una volta arrivati nel palazzo Moralmente indegni Ma esattamente Il contrario Di quello che dice Paragone Paragone dice Che quelli che rimangono Nei 5 Stelle Sono moralmente indegni Cerca una scusa Poerile Sfruttando I suoi agganci Mediatici La sua visibilità Cerca una scusa Poerile Per dire Che quelli marci Sono quelli che rimangono Nel movimento Esattamente il contrario Il Paragone Lo sa benissimo Quelli marci Sono quelli che lasciano Il movimento E rimangono senatori Rimangono deputati Perché non fanno Quello che abbiamo sempre detto Che avremmo dovuto fare Nel caso in cui Volessimo Smettere di far Politica O andare in altre Forze politiche Ti rimetti Dalla tua poltrona E poi al prossimo giro Provi a farti Rileggere con un'altra Forza politica Paragone non lo fa E siccome cerca Giustificazioni Cerca di nobilitare La sua figura Davvero appannata Davvero sporca E allora Attacca No? Attacca con quella Sua solita retorica Ma è un attacco vuoto Perché il sistema Continua a essere Quello di cui Paragone Ha fatto parte Per decenni E continua a far parte Cioè quello dei partiti Come la Lega Quello dei partiti Che hanno dominato In Lombardia E hanno rubato In Lombardia E hanno visto I loro esponenti Arrestati Condannati Incarcerati E hanno svelato Un sistema Non soltanto Di corruzione Ma anche di disinteresse Verso il cittadino Che a me mette La pelle d'oca I brividi Allora Altre due cose Prima di passare Alle vostre domande C'è un giornalista Catanese Innanzitutto Io qua Spesso parlo Di cattive notizie Ma parliamo anche Di buone notizie Quando tanti Chiacchieroni Chiacchierano E scrivono Coglionate Sui social Io un po' Mi arrabbio Perché io Sì faccio una diretta Al giorno Sì quando mi invitano In tv vado Ma nel frattempo Lavoro Lavoro come un pazzo Sto qui A Bruxelles Seguo tutti i dossier Che devo seguire In commissione agricoltura Mi faccio il mazzo Vado a bussare Alle porte Quando qualcosa Non mi piace Faccio le interrogazioni Faccio gli emendamenti Come dire Lavoro Per la difesa Del mio territorio Che mi ha eletto qua Lavoro 24 ore al giorno È chiaro? L'ho sempre fatto Da quando sono stato eletto Non chiacchiero A vuoto Come qualcuno Non mi batto il petto Lavoro Mi era stato chiesto Di occuparmi Del limone IGP Dell'Etna Proprio il giorno In cui Luigi Di Maio Venne a Catania Ad Acireale Per essere più precisi Alcuni agricoltori Proprio della zona Di Acireale Mi hanno detto Ma ci dà una mano Dino Giarrusso Parlamentare europeo Perché noi abbiamo Questo problema È tutto a posto Ma non ci danno L'IGP Io ho detto Vado subito Mi sono messo A far casino Qui Sono andato Nella commissione Ho chiesto Dice no ma manca una carta No poi ho visto Quella carta era arrivata Allora sono tornato Ho fatto il lavoro Il mio dovere Non ho fatto niente Di speciale Se è chiaro Il mio dovere Per il quale ho preso Questa fiducia Dei cittadini Prendo uno stipendio E devo Devo Impiegare le mie energie A risolvere questi problemi Avevo promesso Poi c'è stata Federica Argentati Che saluto E che ringrazio La presidente Del distretto agrumi Di Sicilia Che mi ha evidenziato Come fosse fondamentale Avere quell'indicazione Geografica protetta Perché? Perché quei limoni Effettivamente Di quella parte Della riviera Diciamo Del versante Dell'Etna Che va verso il mare Quindi Acireale Aci Catena Aci Castello Comuni come Aci Bonaccorsi Valverde Aci Sant'Antonio Per chi non conosce la zona E quella fascia Diciamo Etnea Quindi terreno Lavico Ma Anche in altura Diciamo La temperatura È mitigata Dalla presenza Del mare Dalla vicinanza Del mare Quindi i limoni Hanno un sapore Particolare Delle caratteristiche Organolettiche Molto buone E la zona Per intendersi Anche dove si fanno I verdelli Il tipico limone Della zona Proprio di Aci Catena E quella IGP Era ferma Per le solite Lentezze Burocratiche Dell'Europa Quindi mi sono messo A fare con un pazzo E a febbraio Mi hanno detto Adesso la sblocchiamo Poi è arrivato il covid Quindi io subito Ho chiamato Ho detto Ragazzi Si è bloccato tutto Ma mi è stato promesso Che a fine covid Si sblocca Quando si ricomincia L'attività normale Io avevo promesso Insomma avevo promesso Che avrei continuato Ad occuparmi di questo Finché La cosa non fosse andata In porto Speravo Entro maggio A maggio ci hanno detto Ragazzi ancora qui Siamo nei guai col covid Perché molta gente Non è venuta a lavorare Fa lo smart working Insomma sono successi Negli uffici Qui al Parlamento Europeo Un sacco di casini Che non sto a spiegarvi La cosa bella La buona notizia Che oggi finalmente In gazzetta ufficiale Esce l'IGP Del limone Dell'Etna Io Attenzione Non mi voglio prendere meriti Che non ho Perché il percorso Precedente È stato fatto In precedenza Naturalmente Quando io non ero portavoce Al Parlamento Europeo Io ho soltanto Accelerato Credo di avere Contribuito In maniera importante A velocizzare Questa cosa Per evitare che magari Questo riconoscimento Arrivasse fra quattro anni Quando magari Era troppo tardi La concorrenza Di altri prodotti Avrebbe inquinato Più di quanto Non è inquinato Il nostro mercato Avrebbe conquistato Altri mercati Io voglio Che i nostri prodotti Di eccellenza Vadano sui mercati Interni E esteri Con La forza Della certificazione Della loro eccellenza E io ho soltanto Fatto il mio dovere Di parlamentare europeo Per accelerare Una Come dire Un percorso Una procedura Che sia arenata Nelle solite Mille Mille riboli burocratici Dell'Europa E del ministero Anche in Italia Ho soltanto fatto questo Ho fatto pressioni politiche Che sono legittime Sia chiaro Perché quel prodotto Meritava Quel riconoscimento E questo mi era già stato detto Fin da subito Dice però Manca questo Manca una carta Non siamo sicuri Eccetera Adesso L'unico Potenziale Attesa È che qualcuno Faccia ricorso Contro questo Procedimento Entro tre mesi Se Nei prossimi tre mesi Questo non avverrà Fra tre mesi Diverrà operativa L'IGP è già in gazzetta ufficiale Ma diverrà operativa Se non ci saranno ricorsi Se ci saranno ricorsi Naturalmente Mi batterò Perché si decide immediatamente Ma mi auguro Che non ci siano Perché quel prodotto È davvero eccezionale È un prodotto Un limone Veramente Dalle caratteristiche Organolettiche Meravigliose In Sicilia Abbiamo tanti prodotti Importanti del genere C'abbiamo il gambero rosso Di Mazzara C'abbiamo i pistacchi di Bronte Pomodori di Pachino Abbiamo tanti prodotti Da proteggere meglio Di come non sono stati Prodotti Protetti Chiedo scusa Finora E quindi io mi impegnerò Anche per gli altri prodotti Però c'è stato Il 3 marzo Un incontro Ad Avola Con gli agricoltori siciliani Con altri esponenti Del Movimento 5 Stelle Dove io ho detto Guardate che mi sono impegnato Su sta cosa Il 3 marzo Poco prima Della partenza Del covid Diciamo Della chiusura Del lockdown Io ho detto Io mi sono impegnato Mi dovrebbe dare la risposta A breve Ed effettivamente Era così Chiaramente il covid Ha fatto slittare Di altri tre mesi Tutto Ma oggi Questa partita Si è vinta E questo significa Che fare politica Significa anche Lavorare Lavorare E comunicare Se uno comunica E basta E non lavora Non va bene Se uno lavora E basta E non lo fa sapere All'esterno Non va bene nemmeno Perché c'è il rischio Che la gente Non sappia Quello che stai facendo E che quindi Si faccia ingannare Da altri Quindi dobbiamo Lavorare Sodo E poi riuscire A comunicare Quello che facciamo Per questo anche Vi invito A Come dire Condividere queste dirette Magari a condividere Queste notizie Questa è una bella notizia Non soltanto per la Sicilia Per tutta l'Italia Perché gli stessi prodotti Adesso c'è stato questo prodotto Qui da tutelare Ma ce ne sono altri E io come vi ricorderete In Commissione Agricoltura Ho chiesto Anzi Ho esatto Che fossero Tutelati Altri prodotti Italiani Del sud Nel prossimo accordo Italia-Cina Sui prodotti protetti Perché se vi ricordate I prodotti protetti Tra Italia e Cina Italia ne ha Più di tutti Ma sono Tranne la mozzarella Di Bufala Campana Sono tutti del centro nord Del parmigiano Il Chianti Il Prosecco Il Gorgonzola Tutta una serie di prodotti Anche molto buoni Del centro nord E invece io voglio Che Sicilia Sardegna Puglia Calabria Basilicata Abbiano i loro prodotti Tipici Protetti E quindi Pecorino Sardo E quindi Formaggio Ragusano Pistacchio Di Bronte Pomodoro Pachino Limone Dell'Etna Tutti quei prodotti Lì che vanno La burrata di Andria Tutti quei prodotti Veramente Di eccellenza Non è che dobbiamo proteggere Prodotti a cazzo Ma quelli di eccellenza Li dobbiamo proteggere Dobbiamo il dovere Perché poi la gente Va a lavorare Sono posti di lavoro E sviluppo E ricchezza Che perdiamo Se poi sui supermercati Sui banchi del supermercato Va il limone Marocchino Che magari è più scarso È fatto con i pesticidi Ma la gente Non lo sa E lo compra Per noi è un problema La gente quando vede Limone IGP Dell'Etna Magari dice Ma se il limone dell'Etna Lo assaggia una volta È buono E lo ricompra E questo porta Lavoro Porta sviluppo Non sono cose banali Perché quando poi C'è disoccupazione Sono problemi Sono legati anche A queste scelte Che una classe politica Inetta In passato Qui in Europa Non ha saputo Prendere Anzi In alcuni casi Come nel caso Dello zuccheraggio del vino Una classe politica inetta Ha lavorato contro Quelli che li avevano eletti Perché lo zuccheraggio del vino Che è un dramma Che per la Sicilia Ha comportato la perdita Di migliaia di posti di lavoro È stato Un emendamento Di un parlamentare Euro parlamentare siciliano Pensate Del centro-destra Mi pare fosse Di Forza Italia O dell'Udc O di Forza Italia Della Danza Nazionale Insomma di quello che allora Era il centro-destra Di allora Noi dobbiamo invertire la rotta E permettetemi per una volta Di darvi questa buona notizia Sul limone IGP Dell'Etna Abbiamo fatto un buon lavoro Ringrazio Federica Argentata Ringrazio tutti quegli imprenditori agricoli Anche la nostra Purtroppo Ex deputata regionale Che non è più del Movimento 5 Stelle Angela Foti Di Acireale Naturalmente mi aveva caldeggiato Assolutamente Questo lavoro Mi dispiace soltanto Di non poter condividere Con lei Questa Questa bella notizia La posso condividere con lei Come persona Ma non più Come collega del Movimento 5 Stelle Come portavoce del Movimento 5 Stelle Perché ha scelto Insieme ad altri Di fare un partitino E anche su di loro Il mio giudizio è esattamente identico A quello di tutti gli altri Se non mi piace più il Movimento Avreste dovuto dimettervi E farvi rieleggere la prossima volta Questo vale sia per quelli Che non mi stavano simpatici prima Ma anche per quelli Con cui avevo un ottimo rapporto Come Angela Foti A me dispiace moltissimo Che una persona come Angela Abbia fatto questa scelta E lo dico per onestà intellettuale Allora Infine Antonio Condorelli È un grande giornalista locale Siciliano Uno di quelli che ha avuto coraggio Che ha fatto inchieste contro la mafia Che ha fatto inchieste contro Consiglieri comunali Che si Come dire Circondavano di personaggi A dir poco inquietanti È stato minacciato Sono andati nel suo ufficio A minacciarlo Perché lei parla di questa cosa Nel suo giornale Scrive su Live Sicilia Ma ogni tanto Collabora con la Sette Con la Regrettiria Con quei programmi lì Oggi Antonio Condorelli Riceve una richiesta Di sequestro dei cellulari Del computer Cioè Già la stampa italiana Fa schifo In media È servile È paurosa E non è libera Non è corretta Non è obiettiva Ci abbiamo Fra i pochi giornalisti bravi E subiscono Questo genere Di soprusi A me francamente Questa cosa fa schifo Ho chiamato Antonio Oggi pomeriggio Gli do la mia assoluta solidarietà E mi auguro Che Non solo che lui Ne esca pulito Su questo non ho dubbi Ma che non gli venga impedito Di lavorare Ricordo una cosa Siccome Marco Lillo Parlò Sul fatto quotidiano Di tutta quell'inchiesta Legata ai genitori di Renzi Questo stesso provvedimento Quello del sequestro Dei computer Venne fatto Nei confronti di Marco Lillo Della compagna Che peraltro Ben conosco Perché è una ex collega Di Marco Lillo Non farò il nome Ma è una giornalista Anche lei Del papà Che purtroppo Non c'è più Di Marco Lillo Allora novantenne Ultra novantenne Addirittura Della compagna Del PM Woodcock Che era la Federica Sciarelli Cioè Quando giornalisti Italiani Lavorano bene C'è qualcuno Che tenta di fermarli Con queste mosse Questo ci dice Tanto Sul rapporto Davvero problematico Che c'è Fra cittadini Anche E magistratura E anche magistratura Che sta venendo fuori Con forza Dopo le intercettazioni Dopo le pubblicazioni Di queste intercettazioni Legate a Palamara Ma non solo a lui Credo che Dare davvero Una sistemata A quello Che è diventata La magistratura italiana Sia Non urgente Di più Perché Non ci può Essere giustizia Se ci sono Giudici Che non giudicano In maniera obiettiva Io so che sono Una minoranza I giudici corrotti So che sono Una minoranza I giudici Non obiettivi Ma non possiamo Permettere che questa minoranza La faccia da padrona E quindi Dobbiamo assolutamente Impedire Anzi Stoppare sul nascere Tutto quello Che Come dire Abbiamo Conosciuto A causa Di queste intercettazioni E Immediatamente Provvedere A che la magistratura La smetta Di essere Un cuoco Di Correnti Che si fanno La guerra L'una con l'altra Il magistrato Deve valutare I fatti Il magistrato Deve servire La giustizia E quindi Lo Stato E quindi I cittadini Non deve Certamente Fare gli interessi Di quel politico Di quella fazione Di quella corrente Eccetera Purtroppo Queste notizie Come quella Della Richiesta Di sequestro A Antonio Condorelli Del suo materiale Del suo cellulare Del suo computer A me amareggiano Perché mi fanno pensare Che non ci sia una giustizia Sempre equanime E questo Non è bene Soprattutto Quando colpisce Uno dei pochi giornalisti Che come dire Che fa il suo lavoro Lo può anche far male Bene o male Ma sicuramente Lo fa In maniera corretta In maniera limpida A me francamente Questa cosa mi addolora Infine continuiamo a parlare Di acqua pubblica E dobbiamo continuare A lottare Per questo Ragazzi parliamoci chiaro Una delle 5 stelle È l'acqua pubblica Si è vinto un referendum Per l'acqua pubblica Ma in troppe zone In troppi momenti In troppe parti Del paese Ci sono ancora Speculazioni Indecorose Sull'acqua Dobbiamo Appena Finisce l'emergenza Covid Secondo me Dobbiamo fare una bellissima Manifestazione nazionale Di difesa Dell'acqua pubblica È giunto il momento Di farla Adesso risponderò Alle vostre domande Ma vedo che qualcuno Dice Hai visto ieri Mario Giarrusso Da porro Che insultava 5 stelle Insultava Bonafede Insultava Questo Insultava Ragazzi io non l'ho vista Quella puntata Voi mi avete scritto Perché stavo facendo la diretta Ieri ho dovuto farla tardi Per i problemi di trasporto Che vi ho detto Ma A me addolora Che Mario Giarrusso Si comporti così Mi fa Tristezza Mi sembra Pessimo Mi sembra una cosa Imbarazzante Però da un certo punto di vista Siccome Mario Giarrusso E tutti i suoi amichetti Alcuni di quali sono ancora All'interno del Movimento 5 Stelle Mi attaccano Dalla mattina alla sera Ebbene Se c'è un personaggio Che è così Avverso al Movimento 5 Stelle E attacca a me Mi fa pensare Che io sia nel giusto Mi preoccuperei Se fossi in quegli altri Portavoce Che vengono Esaltati da Mario Giarrusso Perché forse Stanno facendo qualcosa Di sbagliato Se una persona come Mario Giarrusso Che attacca a testa bassa Il Movimento 5 Stelle Dicendone di ogni Senza però dimettersi Lui che è stato eletto Con i voti del 5 Stelle Senza dimettersi Dalla poltrona di senatore Senza lasciare la poltrona Attacca tutti noi Attacca a me Va bene Mi preoccuperei Se una persona del genere Non attaccasse a me Perché vorrebbe dire Forse Che sto facendo Delle cose sbagliate O che sto andando In una direzione sbagliata Quelli che vogliono Sfasciare Il Movimento 5 Stelle Che si chiamino Gianluigi Paragone Mario Giarrusso La Riccardi O chiunque altro Dovranno passare Sui nostri cadaveri Prima di sfasciare Il Movimento 5 Stelle Noi siamo una forza Di persone Per bene E non dobbiamo Farci influenzare Non dobbiamo fare La lotta fra di noi Non dobbiamo diventare Tifosi di questo e di quello E dividerci Perché faremmo Il gioco del sistema E di questi personaggi Che infatti Guarda caso Vengono esaltati dal sistema Appena qualcuno Lascia il Movimento 5 Stelle Fa via Paragone Mario Giarrusso Subito Interviste Attenzione Pagine di giornale Appena qualcuno Rompe il cazzo Appena qualcuno Non rompe il cazzo Con cose giuste Attenzione Con cose oggettive Perché non c'erebbe Niente di male Ma appena qualcuno Getta fango sul movimento O vuole dividere il movimento Ottiene una visibilità Clamorosa Come mai Ve lo siete chiesto? Come mai E questo qualcuno Si rende conto Di fare il gioco del sistema? Me lo auguro Me lo auguro Ok Qualche minuto di Di domande vostre Di risposte alle vostre domande Sarebbe come sequestrare il PC A Sigfrido Ranucci Dice concetta Inforzato Sappi Che la persona A cui è stato sequestrato il PC Antonio Condorelli Ha collaborato con Report Più e più volte Mi ricordo anche un famoso servizio Su Catania Sulla politica Di alcuni personaggi catanesi Qualche anno fa Che fece epoca Vittorio Franca Parla anche delle assunzioni Quell'interno di regione Sicilia Fatte di che ho governato tutti questi anni Gravano sopra i siciliani Lo stato Certo Vittorio Io ne ho parlato tante volte Però è giusto ricordarlo Noi siciliani Abbiamo Fra i tanti problemi che abbiamo Ne abbiamo uno in più Una ragione a statuto speciale Che con un'autonomia Che permetterebbe davvero Di trasformare la Sicilia In un paradiso terrestre E invece è stata sfruttata Da una delle peggiori I classi dirigenti Della storia Dell'umanità In serbatoio di voti Clienterari E quindi assunzioni Di persone Totalmente inutili Totalmente non libere Non fatte tramite concorso Ma tramite amicizie E questo sta facendo Malissimo alla Sicilia È un antico vizio Un antico difetto Di chi ha gestito La regione Sicilia Purtroppo Ancora oggi A distanza di tanti anni Questo difetto Questo schifo Continua E ha ragione Vittorio Frasca Dobbiamo parlarne a tutti gli italiani Vittorio Franca Scusate non Frasca Vittorio Franca Dobbiamo parlare a tutti gli italiani Perché noi siciliani Queste cose le sappiamo Magari quegli altri no È una cosa contro la quale Dobbiamo combattere Non è corretto Che rimangano il governo Con un simbolo Che non meritano Non so Con chi ce l'hai Mari carrucola Stefano vorrei Stefano Scuttari Vi chiedo una cosa Io abito su un appartamento Del comune Anche gli appartamenti Del comune Ha diritto al bonus energetico Allora Stefano Scuttari Se tutto il condominio È d'accordo Mi risulta di sì Però chiaramente La tua domanda è un po' particolare Perché il bonus energetico Riguarda soprattutto I condomini A meno che il tuo Non sia una sorta di billetta Un appartamento a sé stante Ma non credo Se è del comune Immagino faccia parte Di un condominio Quindi devi parlare Con l'amministratore Del vostro condominio Se nel caso in cui Se è un ufficio comunale Con loro E chiedere la possibilità Di efficientare Di renderlo più efficiente Da un punto di vista energetico E prendere quindi il bonus Allora Federica Terrone Dobbiamo migliorare Nella comunicazione Agli elettori Non tutti si informano Attraverso i social La maggioranza L'ho fatta verso le tv Ma andiamo via Ai partiti Della tv pubblica E cara Federica Terrone Apri una porta aperta Io ne parlo da tempo E spero Primo o poi Di vincere questa battaglia Scarcella Vecchio amico Della riviera ionica Tra Catania e Messina Mi addanno Sul riforma mancata Della RAI E del sistema editoriale E il conflitto in dressi Ma qua non ci mettiamo mano Spero presto Giuseppe Io sono qua Come sai Come sai Lottando Giorno dopo giorno Viva Danilo Tornelli Scrive Matteo Sono d'accordo Sottoscrivo Come mai Non rispondete Del perché La RAI continua Della disinformazione Non prende posizione No Caro Jack Brigg Io Rispondo sempre Su questo Faccio come un pazzo Rispetto a questo Purtroppo Non è facile Davvero cambiare le cose Di non sarebbe importante Fare una sorta di amnistia Per chi è inserito Il CRIF Almeno per cifre risori Magari fino a 10.000 euro Pala Pagliotti Scrivimi in privato Perché questa tua proposta Potrebbe essere utile A sbloccare Chi oggi è in difficoltà E magari è iscritto lì La Rita Pilotto La Sardegna Ha anche un statuto speciale Ricordo quali sono le regioni Che hanno un statuto speciale Sono la Val d'Aosta Il Fiuli Venezia Giulia Il Trentino Alto Adige La Sardegna E la Sicilia Sono regioni Statuto speciale Spesso questo statuto Non è stato utilizzato Per il bene dei cittadini Ma per farsi Gli affalacci propri Anche in Val d'Aosta Abbiamo avuto arresti Scandali Clamorosi Lo stesso in Sardegna Lo stesso in Sicilia Lo stesso Anche se in maniera Un po' minore In Trentino Alto Adige E Friuli Venezia Giulia Il problema è che in Sicilia Tutto questo ha comportato Una inefficienza assoluta Mentre magari in altre zone Ha comportato problemi Ma non un tale livello Di inefficienza Noi viviamo un grande Una grande beffa Paghiamo più dipendenti Di tutti Ma abbiamo i servizi Peggiori di tutti Questo è veramente scandaloso Angela Sinicato Dacci una mano A Sinigallia Dov'è? Comunaria a ottobre Non c'è la lista del movimento Mi auguro che ci sia Prima di ottobre Sono vitale Di 100 parlamentari Sulla cannabis Al momento no Manuela Anedda Ma ci lavoriamo Come sai anche in Europa Sto cercando di spingere Purtroppo in Europa I tempi sono lunghi Infatti sta cosa del limone IGP mi fa piacere Perché ho sbloccato Una cosa ferma da tempo Che avevano fatto altri Prima di me I consorsi del limone IGP Dell'Etna Però gli era rimasta bloccata E il problema è che in Europa I tempi sono lunghi Dobbiamo cercare di accelerarli Grazie Angela Moruso Marco Miele Un tuo parere sul decreto scuola Ho difficoltà di fare In alcuni punti Un abbraccio Caro Marco Perché non mi scrivi in privato E ne parliamo Perché su questo Purtroppo Ci sono delle criticità Indubbiamente Sul decreto scuola Allora Maria Stella Galattico Sapensi la proposta Di Alessandro Di Battista Per creare un'azienda statale Sulle macchine elettriche Te lo dico subito Maria Stella Io ho apprezzato molto Le proposte Concrete Che ha fatto Alessandro Di Battista Credo che Anche quello che gli ha detto Beppe Sia Legato a questo Pensa a lavorare A fare delle cose A delle proposte concrete Piuttosto che Alle dinamiche interne Del movimento Perché peraltro Alessandro Ha fatto delle proposte Che vanno in senso Come dire Di migliore efficienza Ecologica Di creazione Di posti di lavoro Per In settori Che Diciamo Posti di lavoro Che porterebbero A un ambiente migliore Un domani E quindi è una proposta Potenzialmente molto buona Secondo me Ecco Concentrarci su quello In un momento del genere Sarebbe un'ottima cosa Ciao Dino Vieni a trovarci a Verona Grazie Daniela Giusti Spero di venire al più presto Vediamo Vediamo Per il bonus In fissi facciate Le danno subito Le banche Stefania Gitto Sì sto preparando un video Dove spiego perfettamente Come funzionerà L'eco Come funziona L'eco bonus Grazie Francesca Milan Francesco Milanaccio A Marisa Porcari Antonella Schiavone Dice Fitto in Puglia Oddio È cara Antonella Peraltro ce l'abbiamo qui Al Parlamento Europeo Fitto Allora Chi mi ha scritto Susanna Sor Non mi ha fatto sapere nulla Lunedì sul TGT hanno detto Col presidio della polizia È ripartito lo scavo No Susanna Ti ho già spiegato Cioè Noi abbiamo fatto Io e Laura Ferrara E credo L'abbiano firmata Anche tanti altri Dei nostri Se non tutti Una richiesta ufficiale All'Unione Europea Di valutare Il blocco Di quei lavori Perché la Corte Dei Conti Europea Ha detto che Il TAV Non ha alcun senso Il TAV Torino Lione Non ha alcun senso Non c'è nessun motivo Di farlo E sarebbe uno spreco di soldi E non si arriverebbe Probabilmente A recuperare Il denaro investito Nemmeno nel 2050 Quindi fra Trent'anni Io Ti aggiorno Non appena ho notizie Ma non pensare Che io abbia un potere Diretto Di veto Di stop Sul TAV Torino Lione Se non l'avrei già esercitato Alla stragrande Visto che come sai Da tantissimi anni Persino da prima di fare le Iene E poi Quando ho fatto le Iene Come giornalista Come inviato Ho parlato del TAV Torino Lione E ho spiegato del perché Sia un'opera inutile Dannosa Inutile dal punto di vista Della facilitazione Della vita dei cittadini E dannosa dal punto di vista Tanto ambientale Quanto economico Si valutano Si immaginano Migliaia e migliaia E migliaia Di morti Legati ad inquinamento Che seguirebbe La realizzazione Di quella disgraziata Galleria Mi ricordo di Ferentino Mi auguro sì Di poter venire presto Grazie a Chiara Russo Ad Angela Batta Monte di Procida Magari Bellissimo Monte di Procida Mia moglie dice Che se sto sclerando Lorando Caso Mi scrive Ma mia moglie dice Se sto sclerando Non ho ben capito A cosa ti riferisci Con quale pretesto Hanno fatto cambiare Casacca Eh caro Petrit Xaxiu Hanno cambiato Casacca Con nessun pretesto Dico Non mi riconosco più Nel movimento Vanno dall'altra parte Non fanno più restituzioni Li invitano in tv Ci hanno visibilità E sono contenti così Che vergogna In Toscana Una tizia della Lega Si candidi Ha detto che i medici Meritionali Debono essere pagati meno Sì sappi caro Chi è che mi scrive Questo Vittoria di Cugno Che questa tizia Ce l'ho qui Perché è parlamentare europea Anche loro poi Passano da una cosa all'altra Lasciamo perdere proprio Grazie Peppe Positano Renato Carasale Cosa pensi del caso Renzi-Maiorano Ho studiato un po' Perché Maiorano Mi aveva inviato delle cose Poi mi ha iniziato a insultare Come un pazzo Quindi Come dire Non le ho più guardate Ci sarà un tribunale Che deciderà Se le cose che dice Maiorano Sono vere o no Certamente io non ho alcuna stima di Renzi E non credo che sia Né un bravo amministratore Pessimo amministratore Pessimo politico E come dire Non mi stupirebbe Se Scoprissimo delle cose Ancora peggiori Però Queste cose vanno scoperte Dai magistrati Non da me O da Maiorano Con tutto il rispetto Per Insomma Se Maiorano avesse Un atteggiamento Meno Come dire Pazzoide Meno insultante Nei confronti Di Tutti Secondo me Secondo me Le sue denunce Avrebbero avuto Maggiore seguito Poi mi auguro Come dire Che La verità venga comunque fuori Chiunque dei due Abbia ragione Non ho nessuna fiducia In Renzi Questo ve l'ho detto Nel parlare Di scontri di Renzi Fici il pezzo alle iene Il secondo non ha noi non Insomma Ci sono storie Di cui potrei parlarvi Su Renzi E la sua famiglia Mario Elia Si arrabbia giustamente Con Paragone E Mario Giarrusso Hai perfettamente ragione Ne parlo spesso La Lega con Lermellino Famoso quadro Maria Porcella Grazie Verrò a Barretta Naturalmente Per le elezioni regionali Faccio gli auguri Antonella Laricchi A tutti i candidati Ce ne sono alcuni miei amici Sia in Puglia Che in Campania E quindi Sarò ancora più vicino a loro Però come sapete Non faccio endorsement Perché non si possono fare endorsement All'interno del Movimento 5 Stelle Con sono elezioni con preferenze Naturalmente Come dire Ci sono certamente persone Che conosco bene Di cui mi fido in particolare Ma credo che tutti i candidati Del Movimento Siano all'altezza Allora Vi mando un abbraccio Penso che ci rivedremo domani Per qualcuno Anna Cattolica Non è ancora arrivata La Cassa Integrazione Mi dispiace Lo so Per tantissimi altri Arrivata Dobbiamo sperare Che Come dire Le situazioni si sblocchino Dappertutto In maniera molto veloce Marco Castegnaro Il 5 Stelle Ha abbandonato il Veneto Scusa la domanda Ma qui sembra proprio così Mi dispiace molto Marco Perché non mi scrivi in privato Magari vengo insieme A Sabrina Pignedoli Vi vengo a trovare E facciamo un tour Anche in Veneto Quando è possibile Un abbraccio A tutti voi ragazzi Ci vediamo domani In alto i cuori Sempre Magari fatela girare Questa diretta Condividetela Invitate qualche amico Su questa pagina Cerchiamo di non essere Sempre gli stessi Perché La cosa migliore È far Circolare Determinate idee Determinate notizie A chi già non la pensa Come noi Questo è il modo migliore Per Come dire Coronare La politica Che si fa Con atti concreti Lavorando E che poi Viene comunicata A quante più persone Possibili Un abbraccio E' un mani Grazie.